Ecco, la nostra rubrica questa volta va in onda proprio ormai alla vigilia del Santo Natale e quindi diventa anche occasione per un buon augurio perché per ciascuno, nelle case, nelle nostre comunità, il Natale possa dirsi ancora per quello che effettivamente è e per quello che porta questa presenza di Dio nella storia dell'umanità, questo annuncio anche di salvezza e di pace. Riccardo, dovremmo un pochettino però ricordare, mi sembra doveroso e giusto, che se nelle nostre case, nelle nostre chiese, anche tante volte nelle piazze, si fa ancora il presepio e si fa il presepio, non lo si improvvisa, quindi è anche una costruzione che chiama ad essere partecipi e coinvolti, man mano si mettono le cose, si ricorda di quello che il Vangelo dice, che la tradizione ci ha consegnato, che questo accadimento è stato rappresentato per la prima volta proprio otto secoli fa. Siamo nel 1223, San Francesco d'Assisi a Greccio fa il primo presepio. Riccardo mi sembra doveroso e bello ricordare questo accadimento, questi otto secoli. Certo, non solo ricordare questo, ma vedere anche come l'intuizione l'ha scelta, che magari non sarà stata così, dettata da tanti motivi e magari San Francesco non pensava neanche che magari questa idea poi avrebbe avuto così fortuna, lei qua in Italia, ma un po' in tutti i paesi latini, in tutti i paesi cristiani. Ecco, penso che sia proprio bello vedere questa volontà di non solo rappresentare quello che è successo, ma far sì che le varie scelte della Natività siano ambientate un po' negli scenari nostri. Pensai che il presepio è proprio bello questo, è vero che ci sono dei presepi che appunto cercano di ricalcare la Terra Santa così com'era, l'abitazione del tempo di Gesù, bellissimo, ma quelli che ci piacciono di più sono quei presepi che parlano di casa, dove vedi le nostre case, dove vedi le nostre baite, dove vedi che il Signore si fa uomo nel nostro ambiente, per quello che siamo noi. Pensiamo anche a una cosa Don Leone, che San Francesco non è che ha fatto il primo presepio facendo lo scenario, le statuine, eccetera, eccetera, ma ha celebrato la messa della notte all'aperto in una zona dove c'erano i pastori, dove c'erano appunto l'asino, il bue, le pecore, i pastori, eccetera, eccetera, e ha fatto celebrare la messa perché Francesco era diacono, non era prete, quindi non ha presieduto lui la messa, lui avrà fatto il diacono e invece dell'altare si è celebrato sulla mangiatoia. Quindi c'era tutto lo scenario, ma non c'era la statua di Gesù bambino perché non serviva, era la presenza reale di Cristo che è stata messa nella mangiatoia così com'era nella mangiatoia a 1200 anni prima. In effetti a Greccio, in quella che è una grotta che veramente è conservata con tanta venerazione, c'è un affresco che è a doppia faccia, diciamo, interagente però, da una parte la rappresentazione appunto della nascita di Gesù, quindi diremmo il preseppio, e lì accanto la celebrazione dell'Eucalistia, sembrerebbero due cose così diverse e invece probabilmente dicono la stessa cosa ed è bene che ce lo ricordiamo proprio perché celebrando il Natale, la venuta del Signore tra di noi, non abbiamo a dimenticare che il Signore ancora oggi si fa presente e non in modo fittizio ma in modo concreto, reale, pur nei segni sacramentali attraverso soprattutto la celebrazione dell'Eucalistia. E a questo proposito Don Riccardo, quell'annuncio che riascolteremo nella notte è nato per voi il Salvatore e i pastori che si mettono in viaggio e così via, la tradizione ci conserva il ricordo di quello che è chiamato il pastore della meraviglia, il pastore dello stupore. C'è un pastore che è lì con le braccia aperte, con lo sguardo alto, non si capisce bene se è anche un po' per certi versi spaventato quasi da quello che è un annuncio di angeli, ma ha probabilmente come la migliore interpretazione perché si apre una meraviglia. Ecco, credo che nel cammino anche della fede e nella ricerca della verità, il fatto del andiamo a vedere passi attraverso un po' il sapersi meravigliare, il sapersi stupire, il non dare tutto per tranquillo e per scontato. Ma senz'altro, a me impressiona sempre nel Vangelo Don Leone quando gli angeli appaiono, gloria di un alto dei cieli, eccetera, eccetera, fanno il loro annuncio ai pastori, i pastori che partono senza indugio, vanno in fretta a vedere questo spettacolo che è stato annunciato dai cieli e quando arrivano cosa trovano? Trovano in un rifugio veloce di emergenza una donna che ha appena partorito, quindi possiamo immaginare come sarebbe stato nonostante la sua giovane età, quello che verosimilmente poteva essere pensato come il padre di quel bambino, è un bambino appena nato, appunto in una situazione provvisoria. E qualcuno poteva dire, no, se uno fosse stato solo un razionale, che regada, serviva muovere un battaglione di angeli e andare a vedere che cosa, una scena di tre disperati che hanno trovato solo così un piccolo buco per riuscire a mettere al mondo con un minimo di dignità questo bimbo e invece no, hanno saputo appunto vedere con uno sguardo diverso, vuol dire che quel cammino che hanno fatto, da dove hanno visto gli angeli, alla zona di Betlemme dove incontrano il Signore, dove incontrano la Sacra Famiglia, è simbolo quasi di un cammino interiore che li ha liberati così dalla smania di grandezza così come lo intendiamo noi, se vogliamo è un po' lo stesso cammino che faranno i magi, no? Che arrivano, feoforti della loro cultura, della loro cosa dove vanno a trovare il re che è nato, vanno a cercarlo nella reggia e poi non compare la stella, dovranno rimettersi in cammino per poi riuscire ad arrivare e quando entrano in quella casa e trovano il bambino in braccio a sua madre non è che dicono, valse la pena di fare tanta strada per cos'è poi, ma dicono, offro dei loro doni e capiscono perché è segno di un cammino interiore che li ha liberati anche da tante idee sbagliate su Dio che potevano avere. E' bello pensare a quell'espressione che usano, tante volte l'abbiamo ricordato i bambini, quando dicono non si vede solo con gli occhi della testa, ma quello che conta lo si vede con gli occhi del cuore, diremmo noi con uno spirito di fede che è capace di leggere al di dentro di quella che è l'apparenza e va a cogliere l'essenzialità. Tra l'altro, Don Riccardo, ci sono due evangelisti che si sono dedicati un po' a raccontare qualcosa di questo tempo della nascita, dell'infanzia appunto di Gesù, che è Matteo e Luca. Il presempio poi invece nasce un po' anche sulle tradizioni, su quelli che sono i cosiddetti vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti ufficialmente, ma che si allargano un pochettino appunto a raccontare tanti altri motivi. E' interessante questo, io penso, perché da una parte dobbiamo avere il richiamo a quella che è l'essenzialità, cioè non dobbiamo sperderci intorno. La cosa che conta è il figlio di Dio che si fa uomo, che viene a condividere la nostra storia umana in una normalissima famiglia. Dall'altro però anche il fatto, il presempio, queste storie appunto aggiunte, che forse ci raccontano anche qualcosa, come tu dicevi, per dire la quotidianità, il fatto di un presempio dove c'è dentro la Rotino, c'è dentro la Lavaldaia, c'è dentro i sentieri che portano alla grotta, eccetera, c'è dentro le montagne, i laghetti. Credo che anche questi elementi, che sanno un pochettino così di folklore, se vogliamo, fanno un po' da contorno al tema essenziale per dirci di un Dio che appunto non è venuto a mezz'aria, ma è venuto dentro una storia concreta, quella della nostra umanità. E' vero e credo che anche il fatto che nei presepi, anche i nostri, il presepio bergamasco per esempio, ha la caratteristica di essere zeppo di pecore, probabilmente una situazione anche più così bucolica rispetto a quella che viviamo noi, ha fatto sì che rispetto agli altri presepi, dove magari ci sono alcuni segni, presepi bergamaschi, pecore ovunque. Ma tra le altre cose anche il fatto che ci sono dei personaggi che lì per lì sembra che non dicano niente, cosa serve la Lavaldaia, cosa serve chi fa il pane, eccetera, eccetera. Però voglio dire un po' un ambiente di vita normale, vuole ricordare che appunto nonostante il Signore è nato anche duemila anni fa, non è che tutti si sono accorti di questo, c'è chi è andato avanti, ha continuato a fare le sue cose, ne più ne meno non accorgendosi di quello che stava succedendo, ma così come per noi. C'è chi continua a vivere come se Dio non esistesse, come se non ci fosse niente, e quindi vive la sua storia indipendentemente da quello che accade. Però il Signore si rende presente in questo mondo ed è straordinario vedere come dobbiamo indossare gli occhiali dei pastori perché anche noi possiamo vedere oltre le apparenze. A questo proposito mi farebbe un po' da pensare che se noi nel presepio, e idealmente lo pensiamo in quella grotta, c'era presente il bue e l'asino, un po' come riscaldamento diciamo, e di quei tempi è un po' quello che accadeva anche nelle nostre stalle, se vogliamo, per un certo verso, però la presenza del bue e dell'asino, rimandando un po' anche a qualche espressione dei profeti, dei salmi, eccetera, vogliono proprio un po' richiamare questo. C'è quell'espressione forte, il bue riconosce la greppia, riconosce il suo padrone, eccetera, e quasi Dio rimprovera il suo popolo e dice tu non sei capace di riconoscere me, di riconoscere la mia parola. Quindi vorrei quasi pensare che quel bue e quell'asino nella simpatia della loro presenza diventino un pochettino anche un'interpellanza a noi, come tu dicevi, per cercare di dirci ma tu sei capace di conoscere e di riconoscere quello che è accaduto e chi ti sta facendo incontro. È vero, poi abbiamo anche sicuramente tante riletture, anche che vengono già dai secoli antichi, per carità, dove ogni animale, quindi anche l'agile del bue, viene dato un po' un valore simbolico. Ci sono alcuni testi dei padri della Chiesa che appunto dicono il bue può rappresentare l'antico Israele, eccetera, eccetera. Ciascuno ha un pochino interpretato queste immagini che, sì, vengono dai Vangeli apocrifi, ma non è che i Vangeli apocrifi perché sono apocrifi, raccontano scemenze. Sono apocrifi, quindi non sono riconosciuti come parola di Dio, però chi le ha scritte avrà fatto anche le sue ricerche, quindi possono essere portatori comunque anche di nozioni storicamente fondate. Insomma, non è che la Chiesa ha detto, sì, non è parola di Dio, quindi non sono così normativi per la nostra fede rispetto agli altri quattro Vangeli, però comunque ecco non è che dobbiamo pensare che raccontino delle cose non vere, ossia solo così una cozzaglia di leggende raccontate un pochino di qua un pochino di là. Non sono testi ispirati, quindi che sono fondamentali per il nostro cammino di fede, ma possono comunque darci qualche cosa che magari connota meglio anche la dimensione spazio-temporale della venuta del Signore. Quegli angeli che nella notte santa cantano gloria a Dio nell'alto dei cedi e pace agli uomini, noi dicevamo di buona volontà, oggi ci fanno dire amati dal Signore, eccetera. Io mi sono permesso di girare un pochettino la frittata, non so se è una cosa fuori luogo del tutto, dicendo pace a Dio e gloria all'uomo. Partendo proprio da questo fatto che l'evento della presenza di Dio nella storia è forse il modo più vero, non forse, il modo più vero per glorificare l'uomo, perché l'uomo trovi la gloria, la bellezza della sua vita. E' quel Dio che diremmo quasi in pace, felice di poter condividere in fondo questa sua gloria con l'umanità. Ecco non so se questo ribattamento della espressione angelica ci può stare o in effetti se può dire invece qualcosa anche questo modo di interpretarlo. Ma sì, penso che effettivamente pace interna agli uomini amati dal Signore, o di buona volontà, che mi piace anche sempre come espressione, appunto la pace di Dio è qualche cosa che dice la gloria dell'uomo, effettivamente. Bello vedere insomma, ripeto, quello che già si diceva nelle scorse puntate, Dio non è questa presenza che si bea della sua onnipotenza e che è talmente pieno di sé che non ha bisogno di nessuno. Se il Dio cristiano ci viene rivelato, e lo dice bene San Giovanni, come colui che amore, l'amore è fatto per essere donato, per essere accolto. L'amore si offre, ma si offre anche alla dimensione del rifiuto, e quindi l'amore diventa anche motivo di una sofferenza. Però appunto è meglio soffrire amando piuttosto che chiudere il cuore e essere incapaci di empatire i confronti degli altri, questo sarebbe proprio l'inferno. E quindi penso che questa pace di Dio entrando in rapporto con gli altri è qualche cosa che dice il senso del Natale. Un Dio contento è un uomo che trova la pienezza della sua vita, appunto la sua gloria. L'espressione forte naturalmente della notte di Natale è nato per voi il Salvatore. Ce lo siamo detti ancora? Oggi un certo linguaggio forse rischia di dire poco. Dietro a questa parola salvezza, salvatore, ci sta però qualcosa di grandioso. Mi veniva in mente Don Riccardo, tu sei amante un po' del latino, del gregoriano, del canto bello, della chiesa, eccetera. Quel canto dell'Avvento, il rorate cieli desuper, o cieli appunto piovete dall'alto il Salvatore. Dove mi pare ci sia dentro proprio, se vogliamo, una spiegazione, tra l'altro in un latino stupendo, di quello che è questa salvezza che il Sidore porta. Sia in riferimento al male che abita l'uomo e il mondo, siamo caduti in basso come foglie che sono cadute, eccetera, immagini di questo inno, di questo canto. E poi quel consolate il mio popolo, perché in fondo è lì che troverà la sua storia buona, la sua salvezza. Mi piace un po' riferirmi a questo canto che noi cantiamo un pochettino nella lingua italiana e che però per tanti secoli è stato cantato appunto nel gregoriano e in latino, che forse ci aiuta un pochettino a capire meglio cosa sta dentro o dietro questa parola salvezza. Penso a Don Leone che mentre parlavo mi mi aveva in mente quando ero chierichetto che durante la novena di Natale, che si faceva in Basilica a Clusone, l'arciprete, quando messa, poi dopo si faceva la riflessione, c'era sempre il predicatore e poi la benedizione eucaristica, invece di, prima della benedizione, hai dato loro un pane disceso dal cielo, cantava «Arorate cieli dee super et nubes pluant justum». E questo latino, così un po' misterioso, aveva un po' un fascino anche su di me, mi dava un po' l'idea anche di questo mistero, no? E la gente rispondeva «Aperiatur terra e germet salvatore». Quindi, «Stillate cieli la rugiada», questa idea, no? «Dio squarcia i cieli, scendi», quello che si diceva anche settimana scorsa. «Stillate la vostra rugiada e scenda il giusto, perché il Signore Gesù è l'unico giusto». E la risposta «Si apre la terra e germogli il salvatore». Bella questa idea, no? Non si apre la terra e accolga il salvatore, calanizò, e quindi lo accogliamo, lo abbracciamo, gli vogliamo bene. No? Si apre la terra, quasi proprio come un seme, e germogli il salvatore, perché comunque è vero uomo. È straordinaria questa espressione qui. Poi effettivamente nel suo latino c'ha una forza bella. Tu hai detto «Piovete cieli», ma invece sarebbe «Stillate rugiada», quindi un'acqua delicata. Tu ce l'hai sua morte con la nuova espressione del canone, «Scenda la rugiada del tuo spirito, perché è il tapia smia», e poi ti commuovi di fronte alla rugiada del Natale. Penso che le due cose sono comunque sinonime, e dico «La delicatezza del venire di Dio sulla terra». Una domanda che mi piace sempre, che possiamo farci davanti a un presepio raffigurato in tanti modi, ecco, con varietà anche, direi anche artistica, artigianale, domestica, molto semplice, magari. Il mio posto nel presepio? È interessante che ciascuno a un certo punto, di fronte a questo accadimento, si chieda un pochettino, ma io dentro il presepio dove mi metto? Perché le posizioni potrebbero essere le più diverse, effettivamente. Eh sì, puoi essere… Lasciamo perdere la Sacra Famiglia, che credo sia un po' inarrivabili. Quindi non vogliamo essere della Madonna, né San Giuseppe, perché loro sono unici. Però potremmo essere chi? Gli angeli, sì? Coloro che portano l'annuncio. Possiamo diventare angeli. Possiamo essere pastori che accorrono e si mettono in cammino. Possiamo essere i magi che partono da lontano, magari lontano anche dalla nostra poca fede, e si mettono in cammino e arrivano e contemplano e diventano credenti e tornano poi per altra strada al loro paese, perché questo incontro ha cambiato la loro vita. Possiamo essere Erode, che vive magari nel suo castello arroccato e ha paura che il Salvatore e che questo bambino che è nato gli porta via la sua fetta di potere, ma quante persone ancora oggi hanno paura di Dio perché dicono Dio non mi vuole fare essere felice e non ci rendiamo conto invece che l'essere felici e l'essere in sintonia con Dio sono due cose che vanno proprio di pari passo. Possiamo essere quelli che sono indaffarati nelle loro cose e non fanno niente, possiamo essere degli zucconi come l'asino e il bue che non sanno fare niente, però sono lì e il loro calore lo offrono a Gesù Bambino e forse è la cosa più bella che potremmo pensare e sperare di fare. Bene, andando a chiudere questa nostra riflessione pre-natalizia, direi quasi vi inviterei, se volete, ormai i mezzi li abbiamo tutti, un po' di computer o similari, andare a prendere quella inno del rorate cieli, nella traduzione magari italiana, ma magari qualcuno ha ancora un po' di fumo del latino e lo gusterà anche di più. E un altro motivo, magari lo potremmo fare nel tempo di Natale, andare a leggerci quella storiella, quella leggenda del quarto Magio. La potete trovare facilmente, perché insieme con i tre remagi che camminano verso la grotta di Betlemme, c'è, secondo una tradizione, ovviamente una leggenda, un quarto Magio. Credo che troverete qualcosa di estremamente simpatico e anche di esemplificativo. Chiudiamo, un augurio naturalmente a te, Don Riccardo, d'accordo anche al Don Giovanni, a loro che hanno collaborato tante volte in questa nostra rubrica, grazie, l'augurio ovviamente ad Antenna 2 e anche a tutti quelli che seguono tutte le altre rubriche di questa emittente. L'augurio a voi che ci seguite, con tanta anche pazienza, ma anche, vedo tante volte, il desiderio proprio di avere qualche nota settimanale di riflessione. L'augurio per tutte le famiglie, per le nostre comunità. L'augurio naturalmente anche a questo nostro mondo di riuscire a costruire un pochettino di pace. Viviamo un Natale anche in mezzo a tanta disperazione, a tante tragedie, che il Natale possa dirsi come sentiero, impegno di una pace vera, quella che auguriamo a ciascuno e a tutti e appunto vorremmo allargare al mondo intero e questo porteremo nella nostra celebrazione del Natale e nella nostra preghiera. Grazie che ci avete seguito, l'augurio appunto di una buona Domenica e di un buon Natale. Grazie.